Ho sempre lavorato come mediatore interculturale dal 2019 e poi con il progetto ho fatto la formazione e così ufficialmente do questo supporto come facilitatore digitale. È veramente un servizio molto molto utile perché la persona immigratta ha già delle problematiche da superare tipo per i documenti, per la lingua, per il lavoro, già ambientarsi. Avendo già tutte queste difficoltà, in più entrare nel mondo digitale è un'altra opera che si viene ad aggiungere a tutte le difficoltà del migrato. La persona che sa utilizzare il digitale per accedere ai servizi guadagna in tempo perché magari non deve più andare a fare coda e in più è molto importante la formazione al digitale perché senza alfabetizzazione per l'accesso ai servizi digitali il servizio digitale non ha un senso.